Allora ragazzi, adesso vi voglio parlare del panificio San Giacomo, è uno dei panifici più importanti e riconosciuto a Matera. Loro consegnano in tutta Italia e si possono acquistare anche direttamente dal sito i loro prodotti. Allora vi faccio vedere che cosa mi abbiate. Innanzitutto abbiamo queste di qua, sono paste da latte integrali, questi biscotti saranno spettacolari. Poi abbiamo queste scaldatelle al finocchio, buonissimi. Poi qui abbiamo il pane con le olive, questo sarà spettacolare. Poi qui dentro, e qui troviamo il pane di semola rimacinato di grano duro. Qui troviamo il pane di semola rimacinato di grano duro. Guardate quanto è enorme! Esattamente un chilo. Poi qui abbiamo la pasticceria mista, aspettate che lo apro. Ed ecco che abbiamo qui tutta la pasticceria mista. Da quelli con le mandorle, a questi di qua che saranno col cioccolato e il pistacchio. Buonissimo, buonissimo, veramente grazie di tutto questo. Non vedo l'ora di poter assaggiare tutto. 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 Grazie a tutti.